E' agghiacciante la ricostruzione fatta agli inquirenti dai genitori della quindicenne stuprata da un branco di 4 minorenni e un maggiorenne martedì intorno alle 22 nel porto di Bari. Lei, la giovane vittima, sarà ascoltata nei prossimi giorni dal PM della Procura Ordinaria, Simona Filoni, e dal magistrato della Procura per i Minorenni, Rosario Plotino. Il branco, invece, ha già fatto scena muta, valendosi alla presenza dei legali di ciascuno, della facoltà di non rispondere. Ma i carabinieri hanno sequestrato i loro telefoni cellulari per capire come il gruppo abbia deciso di perpetrare questa orribile violenza. Per gli opportuni riscontri sono stati prelevati anche i loro indumenti a seguito di perquisizione presso le abitazioni dei cinque ragazzi, di cui un diciottenne e gli altri di età compresa tra i 16 e i 17. La scientifica ha effettuato un sopralluogo al Terminal Traghetti per raccogliere ogni elemento utile che potesse essere conseguenza della violenza. Un aiuto potrebbe arrivare anche dalle telecamere di videosorveglianza che sono presenti al Terminal Traghetti, una zona isolata anche se in linea d'aria, molto vicina al centro storico di Bari. In quest'ultimo luogo sarebbe avvenuto l'adescamento da parte dell'ex fidanzato della barese. Lui, con la scusa di un gelato, l'avrebbe condotta dalle parti del porto e poi gli avrebbe chiesto di appartarsi per parlare un po'. Al Terminal Traghetti però c'era il branco affamato di sesso. Uno l'avrebbe bloccata contro un'auto e poi a turno le violenze, che denotano, come ha dichiarato il sindaco De Caro, annunciando che il comune di Bari si costituirà parte civile nel processo, un quadro educativo e morale compromesso.